Una tremenda illusione Verso la nuova era dello spirito, attraverso Pietro Ubaldi. L'involuto cade così in una tremenda illusione, quella di credere di andare verso la felicità mentre va verso il dolore. Egli crede nel trionfo della tecnica, nella potenza economica, nel benessere materiale, nella vittoria con le armi o con l'astuzia. Ma queste sono condizioni secondarie per il verificarsi della felicità. Possono addirittura rappresentare delle condizioni negative e un ostacolo a quel verificarsi. Quando tutte queste forze siano mosse senza equilibrio contro l'armonia della legge, quando esse rappresentano non ordine ma disordine, è inutile aver creduto di andare verso la felicità. Noi saremo andati verso il dolore. E tutte le conquiste umane per cui tanto lottiamo ci tradiranno. Ma non sono le cose della terra che ci ingannano. I traditori siamo noi che crediamo nell'abuso e non le sappiamo adoperare. È giusto che la legge di giustizia così tratti i suoi violatori.